E allora benvenuti a tutti ancora una volta, ben trovati qui a Prato per la terza tappa di questo nuovo circuito gare del metropolitano Tango Italia e avremo varie categorie, oggi iniziamo con la categoria Tango Open di cui avremo due ronde, siamo già nella fase di semifinali, quindi oggi vedremo semifinali e finali, cominciamo con la ronda numero 1 e chiamiamo in pista la coppia numero 1 Domenico Loporte e Rossella Maimo e poi la coppia numero 9 Salvatore Ceglia e Eri Marchetti e poi la coppia numero 3 David Verdiani e Luana Siracusa e poi la coppia numero 16 Alessandro De Giuli e Barbara Truccone e la numero 11 Pietro Palmieri e Simona Paone e poi la coppia numero 22 Bairon Torres e Sara Luparelli e poi la coppia numero 13 Cristiana Contini e Iris Biassio e più di questa ronda la coppia numero 6 Mauro Zanellato Silvia Brusco facciamo un bel giro di pista completo così la giuria intanto comincia a vedere i vostri numeri e io passo il microfono al nostro maestro che vi dirà che brani ballerete brano numero 1 Orquestra Miguel Caló Che te importa che te giore da un belone numero 2 Juan D'Arienzo Che te importa brano numero 3 Carlos Di Sarli Indio Manso grazie a tutti 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 Il nostro è il amore di 20 anni, l'amore di Margarita e di Nubal, però non è sempre un decennario, al final non si può apartare, non importa che me digan che ha cambiato e un brillante colo dago e non è sempre un decennario, al final non è sempre un decennario, ma non è sempre un decennario, al final non lo fa, non è il come dalla con traiccio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti